Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi proveremo Automation Empire. Andiamo a vedere un po' com'è. Play? Oh, abbiamo una serie di mondi dove noi possiamo insediarci con la nostra colonia. Non ho visto molta differenza tra un mondo e un altro, se non che solamente la dislocazione delle risorse è un po' una difficoltà sul tipo di costruzione. Stiamo parlando di un gioco che è un po' come Factorio, Satisfactory, quei giochi dove bisogna costruire, un po' come diciamo nel gergo tecnico si dice un po' bordo macchina, no? Quindi andremo a costruire qualcosa in un mondo tipo... Cioè andiamo in un qualcosa tipo... tipo la Terra. No, Challenge Mode sì. Questo vi dà un po' di tutorial e questo invece vi dà la Challenge Mode, ovvero le tassazioni. Ogni mese spendrete dei soldi, invece se mettete off è free roaming, diciamo così. Abbiamo il nostro mondo, le nostre risorse che sono queste. Per poter iniziare a costruire ed a vendere, questo gioco ha bisogno dei trasporti. I trasporti li abbiamo qui e abbiamo bisogno subito, all'inizio, mettiamo pausa perché se no spendiamo soldi al mese. Allora, abbiamo bisogno di una strada d'ingresso. Con la R si ruota il tutto. Potremmo anche andare a cambiare, potremmo andarci anche a trasferire qui volendo. Che direi che non è male. Vediamo un po'. Cambiamo, mettiamoci di qua. È un po' vicino, però possiamo benissimo metterci qui. Questa, anzi, X. Facciamo ingresso. Scusate, entry, quindi ingresso. Facciamo arrivare i veicoli da qua e li facciamo uscire. Da qua. Sì, direi che... Oh, che figata. No, ci hanno pensato. Perfetto. Ora abbiamo bisogno di una strada. Dunque, possiamo costruire una semplicissima strada che è totalmente diversa. Ok. Questa cosa qua dovrebbero un po' sistemarla. Cioè, vabbè, fortunatamente se si vende l'oggetto ti ritorno i soldi. Quindi facciamo così. E ci tiriamo una linea così sappiamo dove dobbiamo andare a posizionare il nostro tunnel. Dopodiché con la X andiamo a cancellare. Non c'è la multiselezione, quindi andremo a fare così. Cancelliamo tutta questa strada perché per ora non ci serve. Quello che dobbiamo fare è incominciare a dare dei parcheggi per i nostri mezzi che arriveranno a caricare il materiale che noi andremo a creare. Quindi, per adesso, un parcheggio è più che sufficienza. Ci clicchiamo. Qui possiamo dirgli tutte le risorse che vengono caricate in questo parcheggio e la priorità di caricamento. Dopodiché abbiamo le risorse. Questo è coal e questo è ferro. Andiamo a subito estrarre qualcosa. Per estrarre è questo, è il mining rig. E naturalmente avrà bisogno di trasferire il tutto ad un container in modo tale che tramite questo trasferisce e lo deposita nel nostro container. Naturalmente ha bisogno di elettricità. Andiamo a crearci una stazione elettrica con i classici pali, un po' come fattorio. Lo andiamo a collegare, però mi sa che forse... Ok. Sì, possiamo metterlo anche qua. Perfetto. Da ora in poi, se ne facciamo, togliamo la pausa, lui incomincia a estrarre il coal un'ora ogni 10 secondi. Questo è materiale grezzo. A questo punto dobbiamo trasportare questo materiale qui. Ok? Ma questo materiale è sfuso, quindi dobbiamo, diciamo, metterlo in casse per poterlo... per essere idoneo al trasporto. Quindi, andiamo qui e posizioniamo un create maker. Ok? Questo lo posizioniamo pure qui. Anch'esso ha bisogno di corrente elettrica. E glielo andiamo a... dare. Ok. E con il minecart, questo qui, andiamo a depositare, a trasportare il materiale da questo punto a questo punto. Attenzione, però. Questi carrelli, che adesso ne andremo a posizionare, non raccoglieranno il materiale grezzo. bisogna sempre lasciare uno spazio. Perché? Perché il materiale grezzo, per essere travasato dal container al carrello, ha bisogno di questo affare, che è un altro tubo di trasferimento. Quindi lo giriamo. Questo lo prende e lo mette via. E questo, invece, lo raccoglie e lo butta dentro il nostro creatore di casse. A questo punto, selezionando questo binario, possiamo aggiungere, e dirgli la direzione di come si muove, in questo caso il carrello farà avanti e indietro, aggiungere quanti carrelli vogliamo. E vedremo che avrà questo movimento. Raccoglie e verrà dato. Ok, lui lo lavorerà e creerà il nostro pacchetto. Ed eccolo qua. Il camion, nel frattempo, sta arrivando. Mettiamo in pausa. Quindi, tramite i nostri nasti trasportatori, abbiamo bisogno di mettere una load station. Ok? Che verrà scaricato. Possiamo benissimo posizionarlo qui, così abbiamo un piccolo buffer di ceste create. E, naturalmente, il nostro prodotto può essere caricato. Come si fa a caricare adesso un prodotto? Perché in questo momento abbiamo creato semplicemente una linea di produzione, ma non abbiamo creato un prodotto. E, naturalmente, potremmo mettere più postazioni di camion per fargli caricare il prodotto. Potremmo metterne due o tre. Nulla vieta. Possiamo crearne di più. Per caricare il nostro prodotto abbiamo bisogno dell'ausilio. Ci serviremo dei droni. Quindi costruiremo un drone bay vicino al nostro corrente elettrica e andremo a comprare dei droni. Abbiamo finito i soldi, quindi andiamo a vedere come i droni caricheranno. In questo momento non li caricano perché noi dobbiamo dirgli al nostro nastro trasportatore la priorità, ovvero di attivarlo. Diciamo priorità alta, in modo tale che i nostri droni useranno sempre questo nastro trasportatore come priorità alta, lo raccoglieranno e incominceranno a depositarlo nel nostro camion. Non esiste il tasto di velocità, ovvero la velocità è questa e non c'è un tasto di aumenta velocità. Naturalmente abbiamo altre cose da sbloccare e possiamo sempre più migliorare la nostra produzione fino ad arrivare a una produzione ottimale e produrre molto di più di materiale. Questi sono tutti il research, quelli che noi possiamo ricercare. Come vede c'è anche la raffineria, anche il combinatore per combinare diversi materiali. Questi sono gli upgrade che possiamo fare per quanto riguarda camion o carrelli, eccetera. Questo è il nostro bilancio, ok? In questo momento abbiamo un bilancio di 6 kg e trasportiamo 6 kg. Abbiamo guadagnato 7.000 e 1.000 e 3 sono le tasse. Come vedete qua scalano sempre di più. Questo invece è il costo dei materiali attuali. Porto, questi sono i pesi in kg. Queste invece sono le ricette da come si trasforma il tutto. Quindi adesso abbiamo tutto uguale ma così andiamo a prendere questo che è lo steel, quindi l'acciaio. Per fare l'acciaio andremo a fare iron più coal, eccetera. Questo è un mini help che vi dà l'aiuto di che cosa fare e come fare. E qui, vabbè, ci abbiamo in solita achievement la missione. Naturalmente questo continuerà all'infinito finché noi non andremo in bancarotta. Dobbiamo incominciare a sbloccare qualcosa cioè ovvero a ricercare un po' come in Factorio c'è la classica Bay Research che è questa qui. Per poter ricercare qualcosa abbiamo bisogno di estrarre e dargli del materiale o grezzo o raffinato. Il materiale grezzo questo per esempio se noi volessimo sbloccare il combiner abbiamo bisogno del materiale raffinato ovvero portargli appunto dell'iron e del coal già raffinato. In questo caso non abbiamo una raffinatrice quindi utilizzeremo del materiale grezzo anche questo va benissimo. Quindi andremo a selezionare passare il mouse selezionare un estrattore premiamo spazio e lui lo copia. La stessa cosa faremo per l'elettricità e andiamo a dirgli che questo oggetto dovrà uscire da qui e andare direttamente alla Research Bay non abbiamo i fondi. Abbiamo 4200 questo costa 10.000 dobbiamo aspettare un po'. Perfetto abbiamo 10.000 possiamo comprarci questo e posizionarlo qua una volta messo lì lui incomincerà a lavorare e a ricercare e a creare dei punti. Questi punti ricerca una volta ricevuti bisogna fare il claim possono essere spesi qui cliccando su un oggetto e facendo Unlock significa abbiamo bisogno dei 20.000 punti ricerca per sbloccare il raffinatore Nel frattempo la nostra produzione continua e imperterrita e i camion continuano ad arrivare ed uscire non ci sono mini perché è tutta completamente automatizzata infatti secondo me lo scopo del gioco è appunto dare l'impressione che si è su un mondo alieno e si stia cercando di estrarre minerali da questo mondo alieno perfetto c'è il carrello un po' vuoto dobbiamo incominciare a posizionare un altro di questo perché il carrello è vuoto non vi è nessuna banca nessuna richiesta di soldi da parte di una banca quindi nessun prestito quindi non c'è la possibilità di chiedere un prestito e quindi voi dovete solamente cercare di bilanciare la vostra produzione e la vostra vendita in base alla vostra struttura qui sotto abbiamo i punti di cerca i soldi che abbiamo in questo momento l'anno e il mese siamo a marzo primo anno il totale dei robot e qui sotto abbiamo tutta la barretta di tutte le cose che possiamo costruire questi numeri qui sono l'elevazione adesso ve lo faccio vedere 2 e 3 per creare ponti o per far passare una rotaia sotto l'altra e poi abbiamo anche appunto la farm per creare altro tipo di materiale siamo arrivati a 9000 10.000 ok perfetto abbiamo bisogno di altri camion ma nel frattempo la nostra ricerca sta andando abbiamo 9338 questi sono i materiali che sono stati accumulati nel ricercatore per questo vi dicevo quando noi dovremmo andare a sbloccare questi per esempio dovremmo passargli non più il materiale grezzo ma bensì un materiale raffinato in modo tale che lui lo mette in magazzino quando andremo a fare il claim noi prenderemo sia i punti della ricerca sia il materiale lavorato perfetto siamo arrivati a 15.000 possiamo comprarci un altro di questo e direi di subito metterlo qui perché adesso consegniamo questo andremo un po' in rosso però non è un problema perché consegnando questo ultimo carico dovremmo guadagnare abbastanza soldi per poter migliorare un pochettino la situazione esatto questo questo attimo di silenzio era per farvi capire com'è il gioco non vi è nessun nessun suono nessuna musica pardon ma solamente il suono dei materiali che vengono costruiti il che potrebbe essere un po' bruttino o è un po' no senza una musichetta di sottofondo ma potete mettermi una radio e ascoltare quello che volete onestamente non mi dispiace non avere suoni in questo gioco perché è abbastanza rilassante ok andiamo a creare tutto ciò che ci serve per mh mi sa che non possiamo questo però lo buttiamo giù e lo spostiamo qua perfetto vediamo se riusciamo abbiamo pagato le tasse purtroppo non c'è il segui sui camion o sull'altro quindi per seguirlo bisogna fare la manella e lui se ne va via non sappiamo dove ok il livello di zoom è abbastanza alto poi andiamo a creare questo e da qui dovremmo dirgli di prendere altro materiale da qua ci mancano mille ok ci siamo altri due pacche consegniamo uno nei nostri robottini ok la intelligenza artificiale di questi robot lascia molto a desiderare quindi se avete molti più parcheggi e ne avete 50 di questi questi qua cercheranno di prendere tutte le gasse e posizionarle qua e non andare in altri spazi vuoti quindi non c'è una vera e propria coda si mettono tutti nello stesso posto e cercheranno di completare il camion tutti quanti insieme poi si sposteranno e andranno dall'altro vedranno che il camion è pieno e prenderanno le ceste o il sede ce l'hanno già in mano e andranno nel secondo camion quindi diciamo che è un po' deficita molto questa cosa qua ok abbiamo 4000 possiamo creare un altro di questi andiamo in pausa perché dobbiamo modificare il nostro path ok andiamo a fare così e poi da qui una forse ce la facciamo se eliminiamo anche questo si ce l'abbiamo fatto ok naturalmente dovremmo aggiungere un altro carrello perché non ce lo fa aggiungere ah ok non ci abbiamo soldi perché infatti questo qua adesso riempirà solamente uno prendiamo un altro carrello al prossimo carico questo qua andrà qua e tornerà naturalmente possiamo fare anche un loop nulla ci veda di fare un loop cosa che adesso andremo a fare appena arrivano un po' di soldi perché perché creando semplicemente un nuovo carrello appena abbiamo dei soldi perfetto cosa succede lui riempirà però non potrà più riempire il secondo quindi dobbiamo fare in modo che lui passi tutte e due torni indietro infatti naturalmente abbiamo la possibilità qui di schippare i carrelli per esempio se noi diciamo di schippare un carrello lui schipperà il primo il primo carrello che arriverà quindi riempirà solamente il secondo ok questo ci aiuta quando abbiamo molti carrelli vogliamo estrarre o prenderne il primo e il secondo la stessa cosa quindi abbiamo 3000 vediamo se ce la facciamo a fare una cosa del genere quanto costa allora vediamo un attimo costa 100 facciamo caricare questo e poi cambiamo questo sistema ok basta che non fanno incidenti no si è fermato perfetto ok già la produzione è molto più veloce questo va via perfetto ok andiamo in pausa adesso andiamo a eliminare tutto questo e andiamo a crearci il classico loop non mi dire ah ok pensavo non avessi più soldi ok esatto andiamo a premere play vediamo che il carello adesso verrà svuotato completamente sempre sulla capacità di questo esatto nel caso questo fosse pieno ce l'abbiamo qua tiene un tot ok possiamo benissimo metterci un altro di questi prima del nostro pacchettizzatore diciamolo così creatore di pacchi infatti adesso è pieno e non riesce più quindi l'altra cosa da fare è utilizzare e incominciare a fare un'altra linea qui accanto ma non abbiamo soldi per farlo ok sta arrivando un altro camion a questo punto direi anche di crearci un nuovo parcheggio quanto costa 10.000 via nuovo parcheggio priorità media così priorità massima ce l'ha questo quando questo è vuoto i robot andranno dall'altra parte e ci andiamo a creare anche un altro robottino non ce l'abbiamo i soldi va bene non è un problema perché vediamo che questa linea si sta riempiendo troppo ok qua possiamo fare il claim perfetto e siamo siamo arrivati ad avere 34.000 quindi possiamo andare a sbloccare il raffinatore unlock ce l'abbiamo il raffinatore purtroppo deve essere inserito quando andiamo a utilizzarlo deve essere inserito all'interno di un fabbricato di un'industria e adesso andremo a vederlo ok perfetto mi sono portato un po' avanti abbiamo raccolto un po' di fondi appunto per cominciare a costruire la prima raffineria andremo a smantellare tutto e recuperare anche tutti i soldi e anche questi perché non ci servono più perché da ora in poi dovremmo costruire all'interno di questa possiamo scegliere il colore ok e andremo a creare la nostra nuova linea allora 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 vediamo un attimo come possiamo fare è dispendiosissima e costa tantissimo cerchiamo di farla in modo carino vediamo un attimo se possiamo fare una roba del genere eventualmente poi verrà demolita ok abbiamo la nostra macchina e la nostra fabbrica scusate ok adesso vediamo un po' perfetto dobbiamo andargli a dire che deve entrare da qui e eventualmente la possiamo fare uscire anche da qua perfetto quindi cosa succederà succederà che farà così il nostro carello entra ed esce perfetto quindi quindi potremmo dirgli benissimo di fare una cosa del genere perfetto ci siamo quindi dato che abbiamo pochissimi fondi già siamo accorto di fondi io direi di fare lo mettiamo al centro per simmetria e incominciamo a creare tutto ciò che ci serve per raffinare allora lo prendiamo anche da qua va benissimo lo mettiamo dentro un container lo prendiamo dal container creiamo il nostro pacchettizzatore anzi si giusto no scusate creiamo il nostro raffinatore però siamo troppo distanti ok cambiamo e facciamo così allora svuotiamo il carrello qua poi mettiamo il nostro container sono non li ho ancora capiti onestamente allora dobbiamo mettere un tubo di uscita per prendere il materiale poi mettiamo la nostra raffineria e poi il nostro container ok ho sbagliato il nostro pacchettizzatore e il nostro raffineria dopodichè questo oggetto andrà ad uscire ed uscirà praticamente potremmo farla anche più vicino forse sarebbe stato meglio unload station quanto odio queste cose ok dobbiamo spostare il tutto facciamo così perfetto dopodichè rifacciamo il tutto ma stavolta in reverse mode ok allora uno due dopodichè ci mettiamo il nostro bellissimo injector injector questo questo che prende dal carrello e dobbiamo spostare di un po' il nostro carrello perché il nostro carrello dovrà fare questo lavoro qua perfetto qui andiamo a dire priorità massima e direi a questo punto per agevolare l'ingresso dei nostri droni di fare uno e due così possono entrare da entrambi le parti accendiamo e ci manca la corrente elettrica perché questo non è collegato ma come potete vedere si collega al centro cioè all'angolo della nostra fabbrica e tutto ciò che è all'interno verrà collegato si collega qui in questi punti tutto ciò che è collegato che è dentro verrà alimentato e come possiamo vedere non andiamo più a sfornare dalla nostra industria un materiale grezzo ma bensì un materiale raffinato il nostro carrello farà sempre lo stesso giro e andrà a depositare qui in modo tale che lui ha una scorta abbastanza degna per poter sfornare sempre nuovi carichi e andiamo col primo carico onestamente possiamo anche migliorare questo aspetto renderli più vicini cioè potremmo metterla molto più vicina nulla ci veda di farlo o spostare la strada cioè la strada fargli fare una curva per spostarla qua tipo una roba del genere se ci abbiamo i soldi per farlo possiamo benissimo farlo o così oppure addirittura potremmo fare una roba del genere fa sempre curve da 90 gradi e fare una roba così ok leviamo questo leviamo questo che non ci interessano prendiamo questo lo mettiamo qua e un altro lo possiamo mettere qua qui gli diciamo priorità alta qui gli diciamo priorità media togliamo questa strada ce ne copiamo una e andiamo a collegarla perfetto in modo tale che questo è più vicino oppure spostiamo l'intera fabbrica ok il camion arriverà farà la sua curvetta e i droni saranno molto più veloci a caricare il camion naturalmente possiamo con la ricerca velocizzare i nostri droni ci vogliono 100.000 punti di ricerca noi non ce li abbiamo ok tutto qui cliccando all'esterno del del capannone questo si viene a chiudere e non si sente più niente se premiamo tab invece ce lo fa vedere quando rilasciamo tab non ci fa vedere più niente naturalmente abbiamo quattro droni perché questo baglia dei droni ne può contenere massimo quattro per averne di più bisogna costruirne un'altra un'altra cosa importante è questa i portali di uscita possono essere messi anche in alto così questo ci permetterà di far di utilizzare questi questi sono solamente praticamente eliminiamo i droni per utilizzare delle monorotaie chiamiamole così che viaggiano in alto e riescono ad automatizzare del tutto la nostra fabbrica ovvero anche a caricare senza l'ausilio dei droni i nostri camion ma questo si sblocca sempre con la ricerca ovvero questi ok poi c'è anche il treno e tante varie altre robe e fino ad arrivare al razzo naturalmente più aggiungiamo roba e più elettricità avrà bisogno la nostra industria bene spero che vi siate divertiti spero che abbiate passato questi pochi minuti insieme a me in relax e abbiate apprezzato questo gioco è un gioco minimal ma molto carino l'unica pecca di questo gioco secondo me questo è un mio parere sapete che io non faccio mai review ma questo è semplicemente un mio parere è l'AI dei droni sono molto 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 un po' stupidini bisognerebbe un attimino sistemarla poi per il resto il giochino è abbastanza divertente per chi piace questo genere di giochi a me piacciono e quindi mi ci diverto un bel po' per oggi è tutto grazie di essere stati qui con me e alla prossima e come sempre siete mitici bye bye ciao Grazie a tutti.